E tacchiamo a parlare della prima sagra. Qua siamo a Sagronara dove fa un giorno del lavoro e 364 giorni di sagra. E in poche parole c'è una sagra che comprende, mentre qua l'uomo bebuta un fiaio e il presemo e il ragù, c'è e vai col brodo di gaina boente perché manca il brodo di gaina di polverara, bello boente in mezzo ai suppi qua. C'è una sagra che comprende tutte le sagre del Veneto, da sagra del Cavallo, da quella degli Sparasi, da quella degli Osei, E in poche parole guarda qua, bel piatto, 350.000 calorie, pasto piatto e via andare. E qua siamo da Tony, Tony il baffo, lonto, abusivo, abusivo del paese perché c'è anche qua l'abusivo insomma, c'è per tutto quello che fa i panini e robe da mangiare e se si deve prepararsi per la serata clou della sagra, via così. Mentre qua c'è i gaiani, i gaiani in vetrina, ora qua scartoso, pronti qua, 50 euro naturalmente senza scontri, via andare, do tocchi del pan dei quattro giorni prima, beh in zuppa e dentro al ragù, via così, la signora che domanda un fiale formaglio, ma io colpo, colpo di segno, niente da fare, dentro un fiale pesto da Genovese e intanto st'altro fa un scartosso e pesto da Genovese, 20 euro senza scontri, via così. Ed ecco qua inquadrati i famosi gaiani da sagronara, bei tondi, bei fantastici, va via tutto l'anno, non solo carnevale, beh a pignatona del pasta e fasoioi, no beh a pignatona del ragù, e a poenta che non può mai mancare, buona poenta sagra, e qua il famoso pastonpa gli occhi, con le patate, vai la mena qua da Toni, perché Toni baffo, da tutti i baffi qua, perché proprio se tradizioni avere i baffi, quando si lavora in questo tipo di negozio, no? Bea Bea Densa, Bea, pasta e fasoioi, con che ha crosta intorno al pentola, che dà anche il tocco in più, che ha marce in più al piatto, il pesto va da Drio, mentre l'Ommen per preparare uno scartosso e pesto, 20 euro scartosso, vai via così, senza scontri, butemo che è anche dentro, e a pasta e fasoioi di tre giorni prima, si disinfetta bene, se fa boire, vai come nuova, Bea, pronti per la serata clou, della sagrona, guarda, della sagronara, famosa sagra, sagrona gigante, ora va pronto il ragù, via da fare tocchi di panra, fermo, e a Bea, a poenta, Bea, a Bea, a poenta, unta, vai col pastonpa gli occhi, e costa 25 euro scartosso, se schiccia bene, va, va, se schiccia bene, neanche, va, va, che cucchiaio, bellissimo, vai così, rimpi a tre quarti, poco e man, via, beh, man disinfettare, coronavirus, anche io, vai dentro, due tocchi di panra, fermo, un bel tocco di burro, mi raccomando, tocco di burro, beh, un tocco così, che dà che gusto, no, che forte, forte burro, bel dolce, due tocchi di panra, fermo, quattro giorni prima, vai così, 50 euro, fia del poenta, fia del pasta e fagioli, fia del pesto, e via andare, tutto come mai, vai, coronavirus compreso, buona serata amici, ci vediamo a Sagra.